In questo video ti parlo di mettere confini all'interno delle relazioni, qualcosa che le persone accettano malvolentieri e fanno con l'atteggiamento sbagliato. Qual è l'atteggiamento giusto quando dobbiamo mettere dei sani confini nelle relazioni? Per prima cosa dobbiamo capire cosa sono esattamente i confini, poi ti spiegherò qual è l'atteggiamento sbagliato, qual è l'atteggiamento giusto. I confini non sono qualcosa che tu metti per chiudere una relazione, questo è importante. Se tu metti dei confini per chiudere una relazione stai sbagliando. Per chiudere una relazione si deve chiudere una relazione, che sia un rapporto di lavoro, che sia un rapporto di colleganza, che sia un rapporto di amicizia, che sia un rapporto intimo, ma chiudere un rapporto significa chiuderlo. Cioè noi non siamo più amici, non siamo più colleghi, quantomeno tutte quelle caratteristiche che comportano l'essere intimi, l'essere colleghi, l'essere amici, vengono meno. E quindi certe cose, certe situazioni, certi comportamenti non ci sono più. Li mettiamo via. Quando si mettono dei confini è per ridefinire lo spazio del nostro rapporto. E ridefinire lo spazio del nostro rapporto significa ridefinirlo per andare avanti. Quindi i confini si mettono per far funzionare una relazione, non per chiuderla. Per chiudere una relazione si deve chiudere la relazione. Come prendono le persone la questione dei confini quando gliene parlo? Non l'affrontano nel modo migliore. Anche oggi, in alcune terapie che ho avuto e ho dovuto parlare dei sani confini nelle relazioni, le persone usavano la parola difendersi. Io mi devo difendere. Mi devo difendere da mia madre, mi devo difendere da mio padre, mi devo difendere dalla famiglia di lui, di lei, mi devo difendere dal collega, dall'amico, mi devo difendere. Se io uso questa parola, la mia mente si costruisce un'immagine di me che mi sto difendendo da qualcuno che mi aggredisce, perché ci dobbiamo difendere da qualcuno che ti minaccia o ti aggredisce. La questione qual è? Che in questa maniera non stiamo parlando di mettere dei confini, stiamo parlando di tutto un altro mondo. Il fatto è che se io interpreto il confine come difendermi, quello che succede automaticamente è che io mi pongo in una situazione di inferiorità, di sudditanza, di fragilità, in una situazione di difficoltà. C'è qualcuno che ha più potere di me, da cui mi devo difendere. Io, che ho meno potere, devo difendere da qualcuno che ha più potere. In questo modo cosa succede? Che il mio atteggiamento sarà tutto in difesa. I confini che metterò non saranno dei confini per stare bene all'interno di quel rapporto. Saranno dei confini per difendermi. Quindi non essere più minacciato, non essere più aggredito. Ma all'interno di una relazione noi abbiamo il diritto di stare bene, quantomeno comodi. Cioè non avere bisogno di difendersi. E quindi usare la parola difendersi quando si parla di confini relazionali non va bene. Denota un approccio mentale sbagliato. Perché io i confini li devo mettere per non avere più bisogno di difendermi. E questo è un aspetto fondamentale. Quindi i confini. Uno, non si mettono per chiudere una relazione ma per mandarla avanti, farla funzionare e farla funzionare senza avere più bisogno di difendersi. Due aspetti fondamentali da capire. Ti faccio adesso una metafora, quella del giardino, per capire meglio. E poi passo a descriverti in che modo, qual è l'atteggiamento giusto per mettere dei sani confini. La questione è che immagina di avere un giardino, una casa con un giardino, e confina con un'altra casa che ha un altro giardino. Quindi i vostri giardini confinano. Ma non ci sono staccionate. Bene o male sapete quali sono i vostri confini. Ma non ci sono le staccionate. Ad un certo punto il vicino mette un asdraio nel tuo giardino. Come fai a sapere che è esattamente il tuo giardino? Perché mentalmente hai un'idea di com'è fatto questo giardino. E tu vedi quell'asdraio troppo vicina alla tua casa. All'interno di quel confine mentale che tu hai. Di conseguenza diventa importante col tuo vicino mettere un confine, una staccionata, per far sì che lui l'asdraio la metta nel suo giardino. Non nel tuo giardino. Nel tuo giardino sei tu a mettere la tua asdraio. E hai tutto il diritto di farlo. Come ha il diritto quella persona di mettere un asdraio nel suo giardino. Le persone, interpretando quest'idea dei confini come una forma di difesa, si pongono come se fossero state minacciate. E questo facilita il conflitto. Questo è un aspetto molto importante. Se io mi pongo nell'ottica di essere minacciato, mi sto anche ponendo nell'ottica di essere già in conflitto con questa persona, perché sono nell'ottica e questa persona mi sta minacciando in qualche modo. Ecco, quando io dico di mettere dei confini, intendo dire che cosa sei disposto ad accettare e cosa non sei disposto ad accettare nella tua relazione con quella persona. quali sono i comportamenti, i gesti, le parole che sei disposto ad accogliere e quali no. Ponendoti in quest'ottica, che nella metafora sarebbe un po' come dire dove sei disposto ad accettare di buon grado l'asdraio del tuo vicino di casa, quando è che dove deve mettere l'asdraio affinché tu, anziché pensare che abbia invaso i tuoi confini, pensi, ma guarda bravo, si è messo l'asdraio per prendere il sole e stare comodo e magari fargli pure un complimento, dov'è che devi mettere quella sdraio affinché tu abbia un atteggiamento più disteso, più rilassato, anche più positivo nei suoi confronti? Ecco, per farlo in ambito relazionale, quindi non nel tuo giardino, è necessario che ti poni questa domanda, cosa sono disposto ad accettare e cosa non sono disposto ad accettare. Questo è molto importante perché a questo punto non sei più nel difenderti, ma sei nel delimitare il tuo spazio. Dov'è che io mi sento serenamente di poter arrivare e dov'è che non voglio che invece arrivi quella persona nella mia vita, in questa relazione? Ponendoti in questo modo, quello che stai facendo è di dover fare un lavoro su di te, perché nel momento in cui tu sei a difenderti, stai ancora ragionando con il focus sull'altro e sui comportamenti dell'altro e la libertà dell'altro e quello che fa l'altro. Se invece ti poni come ti ho appena detto io, il focus deve stare su di te, quali sono le cose che io sono disposto ad accettare e quelle che non sono disposto ad accettare. Quindi mettere dei sani confini diventa un'occasione di crescita personale per definire se stessi. Nella nostra metafora definire i confini del tuo giardino. Quali sono i comportamenti che sono disposti ad accogliere e quelli che non sono disposti ad accogliere in modo da definire meglio me stesso? Avrai notato che in alcuni rapporti, alcune persone, sono estremamente precise in questo. Tu dici qualcosa, fai qualcosa e immediatamente puntano il dito su quella cosa che tu magari consideravi assolutamente superficiale o trascurabile. Sono persone che hanno chiarissimo in testa dove stanno i loro confini. Che siano eccessivamente ampi o che siano molto ristretti non è oggetto di questa discussione. La questione è che sanno esattamente dove puntare il dito perché conoscono esattamente i loro confini. Questo è l'atteggiamento. Io devo conoscere esattamente i miei confini, quali sono le cose che sono disposto ad accogliere, quelle che non voglio accogliere, dove mettere i miei confini, delimitare il mio spazio personale, il mio giardino, che è il luogo nel quale io mi sento di muovermi pur confinando con la casa degli altri, ma in tutta libertà, sentendomi a casa mia, quindi sentendomi tranquillo, al sicuro. Quindi il confine è un'occasione per conoscere se stesso, per delimitare, definire se stessi e sentirsi tranquilli. Questo è l'atteggiamento, il mindset corretto quando si devono definire i confini. Ora, che cosa succede quando tu non definivi i confini e ad un certo punto invece inizia a delimitarli, quindi inizia a definire te stesso. Succede che col tuo vicino discuterete del fatto che in realtà quel confine è 10 cm più avanti o 10 cm più indietro. Ecco, ti troverai ad affrontare questa discussione. Ma è una fase transitoria che è assolutamente necessaria perché serve proprio lì a mediare quelle che sono le regole del vostro rapporto. Fammi sapere se questo video ti è stato utile.